Non mi interessa niente, che viene promosso Boccià non mi interessa niente, perché tanto voglio lavorare? Abbiamo iniziato un po' a perlostare la zona e abbiamo scoperto Goro, abbiamo scoperto Gorino e da lì quella forse è stata la prima suggestione, una sensazione di una comunità probabilmente un po' isolata, con delle caratteristiche estremamente puntuali, completamente, quasi esclusivamente dedicata alla pesca delle vongole e subito dopo abbiamo incontrato i ragazzi dell'istituto Cesta, l'indirizzo pesca dell'istituto professionale Cesta e abbiamo capito che quello poteva essere l'osservatorio da cui raccontare i ragazzi, il loro futuro e la comunità nella quale vivono. Abbiamo cercato di concentrare dei momenti lunghi, venire qua per tanti giorni in modo da dare il tempo ai ragazzi di conoscerci, di abituarsi alla telecamera, di approcciare distanze diverse anche nel modo in cui li guardavamo e poi abbiamo provato e man mano con alcuni di loro in particolare che sono cresciuti e sono diventati i veri e propri protagonisti del documentario a passare del tempo dentro e fuori l'ambito scolastico. Tre di loro li abbiamo seguiti anche in stage, hanno lavorato per due mesi in uno sabulario che è una struttura industriale del consorzio dove vengono trattate le vongole e le cozze, quindi anche lì alternavamo a momenti di ripresa a momenti di chiacchierate, stare insieme in maniera tranquilla perché loro imparassero a conoscerci e noi a conoscere loro. Una delle cose che all'inizio sembrava strano era il fatto di essere completamente liberi di parlare in dialetto. Noi pensiamo che sia di enorme valore il fatto che ci sia un dialetto parlato sia dagli adulti che dai ragazzi qui. Il documentario sarà praticamente tutto parlato di dialetto. Le bottele ragionano nel giorno, le mette no. Perché al dino ancora la mattina è che ti accosti, questo sì. Il rapporto con la produzione è stato un rapporto molto collaborativo, un rapporto molto buono, un rapporto come dire di massima ecco, proprio di un osmosi quasi. Loro hanno sempre cercato in punta di piedi di raccontare le parti più significative del percorso, valorizzando anche il percorso, valorizzando i ragazzi e i ragazzi stessi. Si sono sentiti, come dire, dei veri e propri protagonisti nel loro percorso di studio, nel loro percorso di formazione, grazie appunto anche al fatto che insomma c'era una troupe che li metteva sotto l'obiettivo e questo ha favorito naturalmente la motivazione e anche il protagonismo dei ragazzi. Il documentario ho visto anche i ragazzi, li hanno preso bene, insomma, siamo contenti anche per far vedere la nostra vita, insomma. Per me è un'opportunità per i ragazzi farci vedere anche in un documentario dove svolgono le loro attività di apprendimento, anche in questo caso. Il mio scopo con questi ragazzi è di insegnargli che c'è anche un mondo esterno, ma che il suo mondo devono tenerselo stretto, perché vivere in un mondo così libero credo che sia un vantaggio. Io abito a Gora, in provincia di Ferrara. Ho scelto questa scuola perché, diciamo, il mio futuro lavoro mi porterà a questo, quindi stare a contatto con l'ambiente, con il mare. e quindi mi sembrava giusto imparare a fare due nodi e a cucire una rete. All'inizio è stato difficile, cioè strano più che altro, perché non è da tutti i giorni avere le telecamere puntate addosso, quindi un po' di timore magari non essere come sei nella vita di tutti i giorni, però dopo un po' ci si abito. Vivere in queste zone è bello perché sei a contatto con l'ambiente tutti i giorni e non si smette mai di imparare con questo lavoro. a tutti i giorni